Una legge regionale per combattere in modo più efficace le endometriosi e per sensibilizzare la popolazione su questa malattia ginecologica spesso invisibile ma profondamente invalidante sul piano della salute sia su quello sociale e che colpisce 160.000 donne in Lombardia e 3 milioni su tutto il territorio nazionale. A proporla è la consigliere regionale del Partito Democratico Antonella Forattini che ha steso la proposta di legge già presentata in consiglio in occasione del mese della sensibilizzazione su questa malattia. Noi non più tardi di 15 giorni fa abbiamo udito una delle associazioni che raggruppa appunto le donne colpite da questa patologia in commissione terza, una patologia che solo nella regione Lombardia colpisce qualcosa come 160.000 donne. Una patologia la cui diagnosi è ancora, risulta essere ancora difficile da diagnosticare e soprattutto è una patologia invalidante. Pertanto le stesse associazioni audite appunto in commissione hanno chiesto che Regione Lombardia al pari di altre regioni metta a disposizione un progetto di legge. E quindi noi come gruppo del Partito Democratico che ci stavamo già lavorando l'abbiamo depositata la scorsa settimana questa proposta di legge perché ci rendiamo conto che è uno strumento che comunque può essere d'aiuto a queste donne ma anche agli stessi professionisti. Il progetto di legge si poggia così sui due punti cardine, da un lato la creazione di un registro regionale dell'endometriosi e dall'altro quella di un comitato tecnico scientifico ad hoc con l'obiettivo di rendere omogeneo e definito il percorso di cura di ogni paziente. Creare un osservatorio che raggruppi appunto tutti i dati che possono essere rilevati da chi oggi appunto ha in cura queste donne può servire ma soprattutto quello che serve è anche una formazione specifica per i nostri operatori quindi per i ginecologi. Perché oggi purtroppo questo in Lombardia manca, mancano i centri di eccellenza, oggi chi deve curarsi per l'endometriosi si rivolge o in regione Veneto o in regione Lazio e questo capite bene che provoca lunghe liste d'attesa e quindi tempi che si dilatano ulteriormente. E quindi quello che noi vogliamo è un vero e proprio investimento che Regione possa fare appunto a livello lombardo individuando in alcune zone della nostra Regione ospedali che possono diventare il riferimento.